Oh, vediamo che cos'è il perno. Cavallo, quello cavallo. Una tenda... Abbandonate sono queste tende. Oh, sta avvenendo in inquadratura il cavallo. Boh, chi lo sa. Un po' mozza. Sta rullando qua una canna. Non so se sta avvenendo perchè non si vede qua niente. Però sto mirando in quella zona. Dov'è? Non lo vedo. Boh, faccio così magari. Pazzesco, ma non lo sto vedendo. Ah, ora lo vedo, si. Perchè non si vede, bisogna vedere poi una zona all'ombra per vedere la ripresa. Questa è un po' di più. 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 Questa è un po' di più.